Giovanni Brusca depone al processo ordinario sull'omicidio di Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. Rina era incavolato, lo aveva saputo dalla televisione. Voleva uccidermi. Il poliziotto Antonino Agostino è stato ucciso a 28 anni di età insieme alla moglie Ida Castelluccio, sposata un mese prima e incinta di due mesi, il 5 agosto del 1989, a Villa Grazia di Carini, frazione di Carini, in provincia di Palermo. A lungomare Antonino e Ida sono stati intenti ad entrare nella villa di famiglia per festeggiare il compleanno della sorella di lui. I killer in motocicletta sono sbucati all'improvviso e hanno sparato sui due. I genitori di Antonino, uditi gli spari, corsero fuori dalla villa per soccorrere il figlio e la nuora. Inutile, morti, lui, lei e il bimbo mai nato. Nino Agostino ufficialmente è stato un poliziotto in servizio alle volanti del commissariato San Lorenzo. Lui però, sotto traccia, sarebbe stato componente di una squadra speciale per la cattura dei superlattitanti. Insieme ad Emanuele Piazza, anche lui assassinato, e a Giovanni Aiello, faccia da mostro. Morto d'infarto il 21 agosto del 2017. Ebbene, lo scorso 19 marzo 2021, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Alfredo Montalto, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato all'ergastolo il boss Nino Madonia per il duplice omicidio Agostino Castelluccio. Altri due imputati, Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, hanno scelto il rito ordinario. Rizzuto è imputato solo di favoreggiamento perché, secondo i magistrati, lui è assistito al delitto, conosce dettagli utili per risalire agli esecutori, ma ha taciuto e mentito. Ancora è bene adesso, al processo ordinario a carico di Scotto e Rizzuto, ha deposto Giovanni Brusca, il quale, in estrema sintesi, ha raccontato che Rina ha presso dell'omicidio di Agostino dalla televisione, che Rina ha sospettato come autori del delitto in Madonia e lo stesso Brusca, e che con Madonia non sarebbe stato in rapporti del tutto ottimali. E Brusca ha premesso. Quando Totò Rina era al vertice di Cosa Nostra c'era una democrazia dittatoriale, dove tutto si regolava con la democrazia, finché tutti concordavano con lui. Quando qualcuno non era di suo gradimento si pagavano le conseguenze, al 99% con la vita. E poi, nel riferimento al sospetto di Rina che ad uccidere Agostino fossero stati Giovanni Brusca e salvo Madonia, e alla sua intenzione di uccidere anche lo stesso Brusca, il pentito di San Giuseppe Iato ha raccontato «C'è stato un periodo in cui Rina si comportò con me in maniera strana, mi teneva lontano, poi capì tutto quando Cancemi disse che Rina voleva uccidere me e salvuccio Madonia». E ricollegai alcuni fatti. Una volta mi fece il terzo grado e mi chiese se anche io avevo partecipato all'omicidio Agostino. Era convinto che gli esecutori materiali fossimo stati io e salvuccio Madonia, visti i miei rapporti con Nino Madonia, che secondo Rina aveva contatti riservati e operava di testa sua. In quel momento capì che lui non sapeva nulla e che cercava l'autore dell'omicidio. Non gli interessava del povero Agostino, ma voleva sapere chi era stato, perché lo aveva appreso dalla televisione. Non gli avevano chiesto nulla e chi aveva agito lo aveva fatto in un mandamento che non era il proprio. E puntò il ledito su Antonino Madonia, senza tanti giri di parole. E poi, brusca, alludendo a rapporti privilegiati di Madonia con esponenti deviati delle forze dell'ordine e dei servizi secreti, ha aggiunto «I Madonia riuscivano ad avere notizie da talpe, interne, alla questura di Palermo, riguardo anche a coloro che erano impegnati nella ricerca dei latitanti». Riina a Nino Madonia lo amava e lo odiava. Si sentiva preso in giro, non solo per quegli omicidi, ma perché Madonia aveva contatti personali che si teneva per sé. E Giovanni Brusca cita un esempio e racconta «Nel periodo in cui Riina era latitante a San Giuseppe Iato, nessuno doveva sapere quale fosse la sua abitazione. Un giorno, però, Madonia si presentò in casa. Da quel momento Riina smisse di essere tranquillo, non disse che era sbirro o che aveva contatti con la polizia, ma non era sereno, temeva anche per sé». E poi Brusca ha aggiunto «Riina era incavolato nero quando parlava di Antonino Madonia, con affermazioni dure. Aveva timore che potesse mettere in campo una strategia contro la sua persona».